Salve ragazze e ragazze, volevo fare un piccolo video per fare la presentazione della new entry in casa truxiana, che sarei io. Che cosa sarà? Siete curiosi? Adesso ve lo mostro. Aspettate, guardate il panoramico, voilà, il cave più gigantesco dell'universo, guardatelo che faccia. Aspetta, ecco qua, è lui il protagonista. Tuxiana mi presenta Flaffy. Eh, eh, c'è storia che è così morbida, come poi devo chiamarlo se non Flaffy? Eh, mi sembra normale. Comunque raga, è troppo bello questo peluche, me l'ha regalato il mio amore e ci tengo troppo assato. Mamma mia, quanto è bello. Invidiate, eh, non vorresti neanche voler uscire così, dite la verità, eh. Eh, accattato a Flaffy. Buonasera, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Grazie a tutti.